Sembrano dolosi entrambi. Gli incendi di auto che ogni notte si registrano in provincia di Lecce non accennano a diminuire, anzi, e gli ultimi due episodi si sono verificati a Tuglie e Cavallino. Nel primo caso, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli è intervenuta a poco le 22 a Tuglie, in via Grappa, per l'incendio di una Citroen C1, di proprietà di una donna di 44 anni. Le fiamme hanno danneggiato la parte posteriore dell'auto, indagini in corso perché, come detto, tutto lascia pensare che dietro il rogo ci sia la mano di qualcuno. Alle due del mattino, poi, un'auto che sembrava abbandonata in una strada periferica di Cavallino è stata distrutta dalle fiamme. Si tratta della Fiat 1 di un anziano, un uomo di 86 anni del posto. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce hanno domato il rogo, ma della vettura, che in un primo momento sembrava potesse essere rubata, non è rimasto praticamente nulla. Anche in questo caso si indaga perché non si esclude il dolo. Grazie.